Siamo con il neogovernatore Luca Ceriscioli, siamo al festival di cultura livettiana a Villa Favorita. Qui ci sono tanti giovani talenti, tante imprese, tanti esempi virtuosi. Lei che si sta prestando a questa sfida di governare la regione Marche in un momento così difficile, cosa ci dice in questa giornata? Che le Marche credo siano il luogo ideale per questa forma di pensiero perché tantissime sono imprese che riescono a coniugare non solo la buona capacità di fare impresa, di essere impresa forte, creativa, innovativa, ma anche di assolvere nello stesso tempo una funzione sociale importante. C'è un elemento naturale, un modo naturale di concepire lo sviluppo come sintesi fra crescita e società coesa. Come il portato di tanti avremo l'imbarazzo della scelta, dovessimo metterci qui a citare tutti quelli che riescono positivamente a svolgere questo compito. Quindi siamo pronti a guidare, a dare linee guida a questa regione e partire di slancio dopo anni e anni di crisi oramai? Sì, infatti più che di crisi possiamo dire di cambiamento in termini di sistema, interpretate come crisi perché ovviamente non essendo pronte in un momento giusto l'abbiamo subito in maniera pesante. Molte aziende che erano orientate sul mercato italiano, su prodotti a basso valore aggiunto, che per anni comunque hanno avuto buoni successi impeditoriali, hanno avuto la necessità di ridefinirsi. Chi non ci è riuscito è stato l'elemento della crisi, si è prodotto una disoccupazione come non si conosceva e il desiderio qual è invece quello di tornare a crescita, creare posti di occupazione e fare in modo che si allarghi invece quella fascia, come dicevo prima, di aziende che invece riescono ad avere un buon successo e crescere. Ha visto dei segnali incoraggianti in questi ultimi mesi? Si parla di una piccolissima ripresa? Ma più che altro ho visto tanti esempi positivi, più che lasciarsi alla disperazione o al racconto della crisi, delle difficoltà, puntare su quegli elementi positivi, cioè su quelle imprese che hanno fatto vedere con molta chiarezza quali sono le direzioni sulle quali lavorare e lavorare quindi su valori come l'internazionalizzazione, come la crescita di qualità di prodotto e di processo, come investimento all'interno dell'impresa, come semplificazione del sistema per tornare a competere, quindi su quegli elementi che ci permetteranno il rilancio perché ormai è chiaro in quale contesto si compete.